Albano e famiglia, le vacanze sono sullo yacht di lusso. Anche per Albano è arrivato il momento di godersi un po' di relax. Per l'estate 2019 l'infaticabile cantante di Cellino San Marco non rinuncia a trascorrere delle giornate al mare con la sua famiglia. Questa volta è stato paparazzato in costume mentre trascorreva momenti felici a largo delle coste di Gallipoli. A ospitare lui e la sua famiglia, come testimoniano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, è lo yacht del genero Davor, marito della figlia Cristel. Presenti anche Romina Junior e Kai, il primo genito di Cristel. Albano, 76 anni, ha dedicato un'intera giornata alla famiglia e alle figlie nate dal suo matrimonio con Romina Power. Da poco il cantante ha dichiarato, mi sto allenando a fare il nonno. Con cinque figli, una madre, gli amici e il nipotino non sono mai solo. L'ennesima dichiarazione d'amore per la sua bellissima famiglia allargata. Il 3 settembre 2016 Cristel Carrisi si è sposata con Davo Roluxic, che avrebbe un patrimonio stimato da 160 milioni di euro. I due sono già genitori del piccolo Kai e per la metà di agosto attendono la nascita di una bambina. Stando a quanto dichiarato dalla figlia di Albano, lei e il marito non si vogliono fermare qui e desiderano una famiglia numerosa. Romina Power e Albano una storia d'amore senza fine. Si vedono ancora. Una delle coppie più amate di tutti i tempi. Albano e Romina Power. Il cantante si racconta al settimanale Oggi e svela tutto il dolore provato dopo l'addio della sua Romina E. Albano ha dolcemente dichiarato. È una storia che nasce da lontano, ha svelato al settimanale Oggi. Io, figlio di un contadino. Negli anni d'oro dello spettacolo italiano sposo la figlia di un grande attore di Hollywood, Tironi Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io. Con Romina è stato un amore a prova di bomba, ha confessato. Quando ci unimmo in matrimonio, molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d'amore sbagliata. Inoltre, Albano ha fatto una confessione davvero inedita. Dice di aver atteso per otto anni il ritorno di Romina, fino all'incontro con Loredana Lecciso. Albano e Romina, si sono sposati nel 1970 e da questo grande amore hanno avuto quattro figli. Ilenia, Iari, Cristel e Romina Junior. Albano e l'amore per Romina. Gli anni con lei indimenticabili. In una recente intervista il cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi, parla della sua lunga d'amore con Romina Power. Una dichiarazione ha fatto particolarmente emozionare i fan. Albano infatti confessa. Gli anni con lei indimenticabili e irripetibili. L'artista pugliese ha voluto ripercorrere alcuni momenti salienti della sua carriera, ma anche della sua vita sentimentale. Parlando a tal proposito delle sue storie più lunghe e importanti. Il matrimonio con Romina Power è la lunga relazione con Loredana Lecciso. Le storie d'amore che hanno attraversato la vita di Albano Sono state molto intense, da entrambe infatti il cantante di Cellino San Marco, ha avuto dei figli. La forza e la forte personalità, sia di Loredana Lecciso che di Romina Power. Hanno spesso creato dei dissapori e messo Albano Carrisi, al centro di un ipotetico triangolo amoroso. Il matrimonio con Romina Power. Grazie a tutti.